questa vicenda per come si è conclusa ha assunto le sembianze del classico flirt estivo iniziato nel giugno del 1988 sotto l'ombrellone e conclusasi a settembre con la riapertura delle scuole la curiosa storia di questo rapporto d'amore mai sbocciato è quella tra l'attaccante uruguaiano di Ruagirre e la Fiorentina